Diana e Tua! Ciao classe! Oggi abbiamo un nuovo studente! Oggi impareremo a scrivere! Ok! Diana, puoi fare di meglio! Ok! Wow, Oliver! È incredibile! Ora leggiamo! Diana, sei la prima! Riesci a vedere James! Riesci a vedere Emma! Escono dal razzo! Guardami! Posso correre! Puoi leggere più velocemente! Ok Roma, sei il prossimo! Ok! Lara amava andare al museo con sua madre! Quante ossa ha il dinosauro? Devi esercitarti di più! Oliver! Sei il prossimo! Ottimo lavoro, Oliver! Ora, la matematica! Due più tre uguale Uno, due, tre, quattro! Due più tre uguale quattro Quattro? No! Cinque! E ora, lezione d'arte! Wow! Maestro, maestro, guarda! E' carino! E' il mio! Ok, ok! Oliver, il tuo è il più bello di tutti! Adesso! La scienza! L'eruzione del vulcano! Yay! Wow! Mescoliamo due liquidi! Wow! Wow! Funziona! Ben fatto! Sì! Sssh! Silenzio! Oliver dorme! Ok! Ok, ok! Sì! Amo disegnare! Bello, bello, Oliver! Bello! Finito! Mi piacciono! Bene, Diana! Ma Oliver è il migliore! L'ultima lezione! Musica! Cool! Oliver, sei il migliore! Oh, no! Oh, no! Oh, oh! Oliver, sei il migliore! Non è giusto! Perché l'odi solo Oliver? Perché Oliver è un nuovo studente! Bisogna sostenerlo e incoraggiarlo! E così sarà facile per lui unirsi alla classe! Ok! Buongiorno! Vui... Ma... non è giusto! Iscriviti and... Qui vediamo l' Vilor! Svi A